E' l'ultimo appello che la società civile, il mondo del lavoro e della disoccupazione dà alla presenza del Consiglio affinché si occupi del Paese, perché siamo molto preoccupati, la gente è esasperata, ogni giorno Roma è la capitale, è piena di manifestanti, ancora oggi sono in tantissimi, per dire basta. E noi con l'ottimismo e la speranza ci auguriamo che al più presto Berlusconi lasci il governo, prima che succede che le manifestazioni trasformino in rivolta. E noi con l'ottimismo e l'ottimismo e la speranza ci auguriamo. e noi con l'ottimismo e l'ottimis луч con la sua presenza, ogni giorno è l'ottimismo, Sì, la pausa. 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 Sì. 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 Sì.